Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Le opere compensative dell'A14 verranno realizzate entro il 2017 per la difesa della costa invece le scogliere saranno più corte per mancanza di fondi Non aumenteremo le tasse ai fanesi parola di sindaco ma per fare cassa giro di vite contro gli automobilisti irregolari Fanno sempre più importante punto di riferimento per la protezione civile nazionale Rosciano, formazione per 200 volontari provenienti da tutta Italia per far fronte alle emergenze Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Occhio alla Notizia Cominciamo dalla cronaca una notizia che arriva da Urbino I vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti intorno alle 15.30 di oggi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino per cercare un paziente di 65 anni residente a Cagli scomparso dal reparto di medicina Il paziente doveva essere trasportato al nosocomio di Cagli ma i familiari a un certo punto non lo hanno più trovato e hanno lanciato l'allarme I pompieri lo hanno rintracciato dopo circa un'ora nel parcheggio dell'ospedale mentre cercava qualcosa da bere L'uomo è stato riportato nel reparto dove ha ripreso le cure Cambiamo subito pagina Entro due anni potrebbero essere realizzate le opere compensative della 14 per le scogliere invece bisognerà attendere il 2016 ma non arriveranno fino all'apporto come previsto dal progetto iniziale perché le risorse purtroppo non sono sufficienti Entro pochi giorni verrà trasmessa la bozza definitiva della Convenzione per le opere compensativa e i lavori della terza corsia autostradale oltre ad affermarlo oggi in conferenza stampa il sindaco di Fano Massimo Seri lo aveva annunciato ieri sera durante il programma di Fano TV primo cittadino Proprio oggi ho ricevuto la telefonata al Ministero delle Infrastrutture che mi hanno garantito che lunedì o martedì la prossima settimana ci verrà inviata la bozza definitiva della Convenzione per le opere compensative qui parliamo di 55 milioni di interventi che sono cantierabili entro l'anno nella nostra città e qui diventa questa una bella risposta anche a tutto il tema della viabilità Appena firmata la Convenzione verrà avviato un iter di qualche mese perché dovrà essere adottata dal Consiglio Comunale di Fano dalla provincia e dalla Regione i progetti sono già paltabili e quindi con il timbro da parte del Ministero i lavori potrebbero essere eseguiti nel giro di pochi anni per quanto riguarda le scogliere per la difesa della costa invece sono necessarie delle modifiche in base alle indicazioni della Regione secondo l'ente l'altezza deve essere aumentata da un metro a un metro e mezzo ieri mattina intanto Seri ha incontrato il professor Mancinelli e lo staff tecnico del Comune per fare il punto della situazione la prossima settimana poi si svolgerà un ulteriore incontro con la Regione prima di presentare in modo definitivo il progetto che riguarda tutto l'intervento dopodiché tenendo conto dei 3 milioni di euro a disposizione si deciderà sul da farsi queste risorse però non sono sufficienti a far arrivare le scogliere fino al porto ma verranno realizzate in modo tale da proteggere comunque le spiagge che con le ultime ondate di maltempo hanno subito danni ingenti l'amministrazione dovrà inoltre cercare altre risorse messe a disposizione dal governo per l'assetto idrogeologico in cui rientra appunto la difesa della costa il 30 aprile prossimo verrà presentata l'istanza per la valutazione di impatto ambientale procedimento importante per dimostrare certificare che l'opera non rechi danni dopo la pubblicazione che dovrebbe essere nei giorni successivi al 30 aprile scatteranno i 150 giorni previsti ma che potrebbero anche essere di meno per chiudere la procedura di valutazione di impatto ambientale e poi si potrà procedere con il resto della progettazione per arrivare a consegnare i lavori entro il 15 dicembre un ostacolo a superamento della valutazione di impatto ambientale però è dato dagli scaricatori di piena ai due estremi di Viale Ruggeri visto che la posa in opera delle scogliere inizierà nel 2016 ma lo scolmatore di via Pisa Cane non verrà realizzato prima del 2017 saranno necessari ulteriori lavori per un importo di circa un milione di euro si rende necessario introdurre non nelle somme dei 3 milioni di euro ma con altro intervento la realizzazione di due condutture sottomarine che possano portare le acque aeree e aeree di sfioro al di là della linea delle scogliere pensiamo almeno a 300 metri dalla costa Allora il sindaco ha annunciato che non aumenterà le tasse ai fanesi però in questi giorni è alle prese con la chiusura del bilancio e da qualche parte i soldi bisognerà pur trovarli e così hanno deciso di dare un stretto giro di vite agli automobilisti irregolari vediamo in che modo Tour de Force da parte della Giunta per l'approvazione del bilancio che avverrà nei primi giorni della prossima settimana i conti tornano ha detto il sindaco che esclude l'aumento delle tasse ma le emergenze sono tante quindi necessitano delle entrate irreperibili ad esempio con la lotta all'evasione o il recupero di multe non pagate rispetto ad altri comuni ha precisato quello di Fano ha una media molto bassa di sanzioni il primo cittadino stamattina ha annunciato anche l'installazione di telecamere di videosorveglianza alla stazione ferroviaria di Fano è arrivato infatti il nulla ossa da parte della commissione della prefettura la quale ha suggerito di installarne altre una o due all'anno nei punti strategici e quindi quelli di entrata e di uscita dalla città come a Gimarra e a Sant'Orso in questo modo potranno essere colti in flagranza di reato coloro che non rispettano il codice della strada inoltre grazie ai 20.000 euro ottenuti dalla regione in collaborazione con le forze dell'ordine si sceglieranno telecamere all'avanguardia le cui immagini possano essere utili alle indagini investigative durante la conferenza stampa poi si era accolto l'occasione per condannare il gesto compiuto dai vandali in zona Sassonia la scorsa settimana infatti era apparsa una scritta sfondo anarchico che imbrattava l'anfiteatro Razzat frase poi ripulita a titolo volontario da regresso arti il sindaco ha rinnovato il ringraziamento nei confronti delle forze dell'ordine per l'ottimo lavoro che svolgono ogni giorno apriamo ancora la pagina di cronaca il rimorchio di un camion che viaggiava da Pesaro in direzione Fermignano si è ribaltato sulla rotatoria all'altezza del consorzio a Urbino il camion trasportava trucciolare e a causa della rottura di una sospensione ha perso la parte posteriore dopo che il conducente ha imboccato la rotatoria l'autista è rimasto in leso e non ci sono stati altri feriti sul posto è intervenuta la polizia e una delle uscite del centro commerciale è stata bloccata mentre il traffico ha subito rallentamenti domani sabato il ministro della salute Beatrice Lorenzin parteciperà in una videoconferenza ad un incontro dedicato alla procreazione assistita con i ginecologi di Marche Nord è un incontro rivolto alle giovani coppie che progettano nel loro percorso di vita la nascita di un figlio si intitola la donna la coppia la famiglia l'influenza della procreazione assistita l'iniziativa in programma per sabato alle ore 9 alla Mediateca Montanare Mimo a presentare il convegno a cui parteciperà in videoconferenza anche il ministro alla salute Lorenzin sono stati il direttore dell'ostretrice ai ginecologi del San Salvatore di Pesaro Alberto Marabini e il collega del Santa Croce Claudio Cicoli il quale ha precisato che la percentuale di successo della procreazione assistita è di una su tre è un invito quello di Cicoli a non aspettare troppo tempo perché l'orologio biologico ha le sue regole dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 20% delle coppie soffre di questo problema dobbiamo puntualizzare che il massimo della fertilità nelle coppie cioè nella donna sia intorno ai 20-30 anni e oggi purtroppo la ricerca della prima gravidanza sia mediamente intorno ai 32 anni d'età considerando che poi una buona percentuale lo ricerca in età superiore ai 37-38 quando la fertilità all'interno della donna precipita in maniera considerevole il convegno sarà anche l'occasione per mandare un messaggio ai politici affinché lavorino per una società più produttiva e creino un tessuto sociale che consenta ai giovani di programmare il loro futuro in conferenza stampa inoltre Marabini ha fatto anche il punto sulla programmazione medicalmente assistita di Marche Nord solo la Toscana la Lombardia e l'Emilia Romagna eseguono oltre mille trattamenti l'anno le Marche con il Salesi di Ancona sono invece la penultima regione d'Italia a derogare questo servizio pubblico erano già stati ottenuti finanziamenti per le tecnologie e la struttura oggi realizzata e pronta dentro lo stabilimento ospedaliero a Muraglia di Pesaro ed ora la regione ha assegnato anche i fondi per il personale speriamo entro la fine dell'anno di poter cominciare con le prestazioni di procreazione medicalmente assistita il centro si trova presso l'ospedale di Muraglia è un centro quindi completamente nuovo in una posizione che consente ampiamente la privacy si è guardato molto alla struttura che mostrasse ed esse all'utenza un senso di serenità e tranquillità che è necessario per affrontare questo grosso problema che spesso angoscia naturalmente le coppie per la proposta di legge di iniziativa popolare per un fisco più equo e più giusto domenica dalle 16 alle 19 la CISL sarà impegnata a raccogliere le firme Mondolfo sarà la prima tappa di questa raccolta che proseguirà poi in altri centri della Valle del Cesano e della Valle del Metauro Fano sempre più importante punto di riferimento per la protezione civile nazionale Rosciano di Fano in questi giorni si sta tenendo la formazione per 200 volontari provenienti da ogni parte d'Italia stanno imparando a montare tende ad effettuare comunicazioni radio a gestire una segreteria a sanificare i luoghi comuni organizzato dal CB Club Mattei di Fano e dalla Federazione Italiana Ricci e Trasmissione al Codma di Rosciano in altre tre strutture cittadine si svolgerà fino a domenica un training di protezione civile cioè un corso di formazione teorica e pratica a cui stanno partecipando 220 volontari provenienti da tutte le regioni d'Italia suddivisi in 5 gruppi logistica cucina comunicazioni radio unità di crisi e segreteria si stanno formando e specializzando per la gestione di un campo sfollati da 250 persone tutto questo serve a far sì che se dovesse essere necessario impiantare un campo da 250 sfollati noi siamo in grado di gestirlo ma non per una settimana ma nel tempo circa 3 o 4 mesi quello che necessita quindi le figure ci sono per poterlo gestire non ci sono problemi però le figure sono poche cioè io posso lasciare il lavoro per una settimana e il datore di lavoro viene rimborciato forse due nell'arco di 4 mesi ma per dare la continuità nel tempo ci vogliono persone formate su tutti i campi importante è anche imparare la logistica e quindi l'insieme delle attività tecniche e organizzative i ragazzi che sono in aula apprendono con le slide preparate dal nostro formatore Daniele come allestire un campo di assistenza alla popolazione per 250 persone per cui qui la vedono proiettata vanno ad analizzare anche le tecniche di allestimento delle tende degli impianti elettrici che poi dopo svilupperanno nelle sessioni pratiche in caso di emergenze queste persone saranno pronte a partire ad aiutare le persone in difficoltà finalmente sono state ripulite le banchine della Darsena Borghese sporcizia incuria e degrado alla Darsena Borghese lo segnala da tempo Vincenzina Turiani di Sinistra Unita che ha sempre spornato le amministrazioni comunali a riqualificare la struttura e l'intera area finalmente dopo tante segnalazioni le banchine sono state pulite spero di vederle sempre così ha scritto in un post sul suo profilo Facebook ma spero anche che le auto non ci parcheggino e che si tolgano quelle orribili vele sul terrazzo della Darsena stessa dopo l'intervento che abbiamo fatto su Fano TV ho informato anche gli uffici competenti dell'ASEP anche Lucia Capodagli e mi sono fatta sentire diverse volte e questo ha voluto dire che hanno mandato giù a pulire doveva essere pulito prima di Pasqua ma invece è stato pulito solo ieri non importa meglio tardi che mai bisogna che dica una cosa un punto importante che sulle banchine non ci si parcheggia e credo anche che ci sia il divieto di pesca perché questo mi è stato detto ma chi va a parcheggiare lì normalmente sono i pescatori e anche qualcuno che comunque ci parcheggia perché tanto nessuno va a dire niente c'è solo il permesso di carico e scarico invece le macchine vanno e tu hai visto benissimo che ci sono i segni delle macchine proprio si vede molto bene sarebbe proprio utile far capire alla gente che quella è una passeggiata alternativa ed è piacevole non ci si parcheggia e soprattutto non ci lascia l'immondizia per quanto riguarda le vele invece ieri sera il sindaco Massimo Seri ha confermato che verranno spostate in qualche modo rendono meno bella quello spazio quella cartolina di città che poi è una porta d'ingresso della città quindi posso già confermare che le vele verranno trasferite le nostre pratiche sono tutte a posto aspettiamo e verranno trasferite verso Pesaro dopo Gabellino la concessionaria della zona di Verde perché quella deve essere un'informazione uno strumento di comunicazione per chi viaggia per chi entra nella città e stiamo aspettando che l'ultimo atto per poter eseguire questo spostamento è un nulla osta delle ferrovie perché lì siamo proprio vicino alle ferrovie e per portare le vele occorre questo nulla osta è sempre il tema di pulizie di decoro il comune di Fano e le associazioni ambientaliste hanno organizzato per domenica mattina la pulizia del litorale di Baia del Re dopo le operazioni di pulizia di gran parte del centro storico seguite da quella di alcuni luogo simbolo della città effettuata insieme agli scout ora è la volta del litorale di Baia del Re si tratta di uno dei pochi tratti di arenile dove si possono ancora osservare rare specie vegetali quasi completamente scomparse lungo la costa marchigiana le recenti mareggiate come affermato dagli organizzatori hanno purtroppo danneggiato quest'area protetta asportandone ampie zone ricoprendo quelle residue di rifiuti portati alla deriva dal mare la pulizia della zona non può essere effettuata con mezzi meccanici che asporterebbero le piante rimaste e modificherebbero l'assetto naturale della duna la pulizia a mano richiede l'intervento di molte persone che tolgano i rifiuti in particolare quelli dispersi tra le piante un appuntamento aperto non solo gli attivisti dell'associazione ma anche i volontari e i cittadini e i cittadini che vorranno essere con noi in un ricordo a partire dalle otto e mezza per l'intera mattinata il regista di San Costanzo Nicola Sorcinelli sarà il protagonista dell'incontro organizzato dall'Accademia degli Scomposti sabato 11 aprile alle 18.30 presso il circolo Città di Fano Accademia degli Scomposti sarà presentata una serata in onore di un giovanissimo regista di San Costanzo Nicola Sorcinelli reduce dalla produzione del suo ultimo cortometraggio che ha girato fra le terre della Gola del Furlo di Ascoli Piceno e dell'entroterra appunto di San Costanzo che cosa spiegherà illustrerà questo film in una chiave un po' particolare sì il titolo della serata è la regia dell'anima vorremmo trovare scavare insieme a Luca Caprara che come esperto cinematografico le aspetti le anime di questo giovanissimo regista è un incontro aperto alla cittadinanza sì è aperto alla cittadinanza e speriamo importanti presenze perché siano importanti per valorizzare i giovani talenti del nostro territorio l'associazione culturale Ego Film ha promosso una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei cani a sostegno della Melampo l'associazione che gestisce il canile della città di Fano lo slogan è un chiaro riferimento alla frase simbolo del film Tormentone dell'anno gli sbancati diretto da Enri Secchiaroli che la scelta come claim dell'iniziativa presentata stamattina nella sede del comune di Fano nella sala verdi del teatro della fortuna domenica mattina alle ore 11 tornano i concerti di mezzogiorno il secondo appuntamento in collaborazione con il conservatorio Rossini di Pesaro e con il pianista Daniele De Filippi salievo del biegno sperimentale del secondo livello indirizzo solistico che si presenta con un programma di brani di Schumann Chopin e Liz per gli amanti della danza invece sempre al teatro della fortuna domenica pomeriggio alle ore 17 ci sarà un galà del classico dal classico al contemporaneo con gli allievi della scuola di ballo dell'accademia teatro alla scala di Milano in scena 16 allievi tra cui Francesco Mascia un ballerino di Fano che è entrato in accademia nel 2008 vincendo il terzo concorso Civitanova Danza per domani il telegiornale finisce qui io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV e vi do appuntamento a domani arrivederci